Carissimi amici collegati in diretta, tutti coloro che ascolteranno o vedranno il video di questa Catechesi, un caro saluto a tutti, Dio vi benedica, Ave Maria, ci troviamo per una fraterna condivisione verso il termine del mese di maggio, oggi è la vigilia della chiusura del mese Mariano, certamente è stato spero, più che certamente per tutti, un mese di maggiore conoscenza, di più grande devozione, di offerte, di sacrifici da offrire alla nostra carissima Regina del Cielo, come l'abbiamo salutata con questo piccolo canto introduttorio e di crescita nella devozione, nella preghiera, nel favore, speriamo anche un po' nella conoscenza di lei, perché De Maria Nunquanzatis, così chiama il titolo di una trasmissione da poco terminata sul Radio Buon Consiglio, cioè su Maria non si dice mai abbastanza, che è anche il contesto in cui queste catechesi sulle virtù della Madonna sono iniziate. Bene, la volta scorsa abbiamo cominciato a introdurre questo tema, ricordando come la Madonna sia l'unica ad aver applicato il duplice comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo con perfezione assoluta, l'unica eccezione, perché è stata l'unica capace di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, quindi sia con la massima perfezione possibile che a creatura umana fosse concesso, quindi dando tutto l'amore che poteva, ma anche in virtù della sua unione con la Divina Volontà, cosa che solo nella Divina Volontà è possibile, anche amare come Dio va amato, quindi come Dio è degno di essere amato. Senza questo la Madonna avrebbe amato certamente Dio con tutto se stesso, ma non come Dio merita di essere amato, come notavamo. E notavamo anche che se a noi purtroppo, in quanto macchiati dalla colpa d'origine e quindi vissuti come figli di Adamo, quindi sicuramente c'è stato qualche momento della nostra esistenza in cui non siamo stati tutti intenti nell'amore di Dio, quindi non potremo come Maria amarlo con la perfezione creaturale assoluta, però chi di noi ha la grazia, il dono e la buona volontà di conoscere il tesore immenso che è la Divina Volontà potrà assomigliare alla Madonna perché nella Divina Volontà si amerà Dio così come lui è degno e merita di essere amato, cioè con un amore non semplicemente umano, ma un amore divino col suo stesso amore. Bene, oggi dobbiamo fare un tassello in avanti e prima anzitutto vedere come i figli di Maria devono vivere questa virtù della Madonna perché ricordiamo sempre che è vera devozione quella che porta all'imitazione. Noi non possiamo dirci devoti di Maria se la nostra vita è esattamente l'opposto di quello che era la vita della Madonna. Sull'argomento umiltà, come vedremo probabilmente nelle prossime catechesi e carità, si gioca molto della credibilità dei devoti alla Madonna perché umiltà, carità e ubbidienza in Maria sono le virtù che a mio modestissimo avviso vengono prima di ogni altro. Per cui un'anima devota alla Madonna che non si distingua per un ardente amore di Dio e per un vero amore del prossimo è percepibile anche in gesti molto piccoli e molto concreti, faremo come sempre dei buoni esempi, deve crescere nella devozione alla Madonna perché la devozione deve assolutamente portare, noi dobbiamo chiedere alla Madonna che ci dia il suo stesso cuore, che ci renda davvero simili a lei, altrimenti la nostra devozione non buona, è falsa. Ecco, allora la Madonna innanzitutto vuole che i suoi figli amino Dio quanto più possibile. Abbiamo questa frase che credo sia riportata da Santa Alfonso Maria degli Cuori nelle sue glorie di Maria, abbiamo Santa Angela da Foligno che è sempre chiamata per tradizione, insomma la beata Angela da Foligno anche se è santa canonizzata, che una volta si sentì dire da Maria Santissima, cerca di amare mio figlio quanto più puoi. Quindi la devozione alla Madonna lungi dal portarci lontano da Gesù, ecco, perdonate la croce dell'allergia purtroppo non ci posso fare nulla, lungi dal portarci lontano dall'amore di Gesù, quando è autentica ci porta ad un amore ardente verso Gesù, perché la Madonna è l'anello di congiunzione privilegiato dell'amore a Gesù. E a Santa Brigida disse anche, se vuoi legarmi a te ama mio figlio. Pensiamo per esempio alle apparizioni mariane più famose, riconosciute dalla Chiesa, prendiamole due a caso, Lourdes e Fatima, quali furono le prime grosse cose che Dio chiese a Santa Bernardetta e ai Pastorelli, voglio che qui sia fatta costruire una cappella, insomma la cappella si sono diventati come sappiamo dei santuari novi. Che cosa si fa dentro la cappella? Dentro la cappella si celebra la Santa Missa. Ecco, quindi è chiaro che la Madonna proprio strutturalmente, intrinsecamente porta Gesù. Il Santo Padre Francesco come sapete ha da poco autorizzato ufficialmente i pellegrinaggi parrocchiali a Diocesania, a Meggiugori, quindi questo non significa riconoscimento, ma insomma è un altro atto dopo l'invio un anno e qualcosa fa di un vescovo incaricato a Personam in quella terra, quindi bene così, diamo avanti, insomma il cammino che la Chiesa sta facendo in un sempre maggiore discernimento, ma una delle cose molto belle che la Madonna nei primissimi messaggi antichi che ricordo molto bene, disse, non so quale leggente ma ricordo bene il contenuto del messaggio, era questo, dice guardate, se c'è l'apparizione o c'è la messa, non vi venga nessun dubbio, andate a messa e lasciate l'apparizione. Basterebbe un messaggio di questo genere, capite io grazie a Dio non sono nessuno nella Santa Madre Chiesa se non un povero prete, ma basterebbe un messaggio del genere per, come dire, per avere una spia di, ecco, profondissima attendibilità, perché sicuramente la Madonna direbbe una cosa di questo genere, su questo non c'è assolutamente dubbio, poi se ci fossero astuzie che magari uno immagina che la Madonna dica questo e se lo inventa, tutto è possibile, ma sicuramente la Madonna in una fase del genere la direbbe a squarciacola, senza nessun dubbio. Quindi i devoti di Maria si distinguono per un grande e ardente amore di Dio, e se non c'è questo grande e ardente amore di Dio, la devolzione alla Madonna direbbe San Luigi Maria di Amonfort, è falsa, non è vera. Però la Madonna vuole anche che noi ci distinguiamo e questo, capite, l'amore di Dio molte volte, ed è assolutamente auspicabile che sia così, è un fatto che ci rimane nel cuore, cioè l'amore di Dio per esempio può, anzi deve essere vissuto nel contesto della preghiera con la P maiuscola, della preghiera profonda, ma quello che accade tra me e Dio nella preghiera profonda lo so io e non lo deve sapere nessuno, al di fuori, se ce l'ho, e nella misura non più opportuna, il padre spirituale, che custode insomma di segreti intimi. Invece l'amore del prossimo si vede, il caro Dondolindo Ruotolo quando faceva le prediche ai preti, proprio raccomandando l'amore verso il prossimo, diceva guarda caro confratello che un fedele che ti viene a trovare o che viene in un ufficio parrocchiale o che viene in parrocchio e che ti chiede di confessarsi, non lo sa se tu hai recitato il breviario, se sei stato a fare onore ad adorazione, se hai detto 50 rosari in ginocchio, se hai fatto i digiuni, se hai fatto come il curato d'Arsa, le discipline, tutto quello che vuoi. Quello che sa è che vede come lo tratti e a seconda di come lo tratti si farà un'idea di Gesù Cristo, di te, della Chiesa, del Cristianesimo, eccetera, eccetera. Questo dovremmo pensarlo spesso a sé tutti quanti, perché l'amore di Dio certamente si vede nel senso che traspare dalla nostra serenità, dalla nostra distensione, da tante cose. Però, come diceva San Giovanni, non puoi dire che ami Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi. L'amore autentico di Dio necessariamente porta all'amore del prossimo, ma non come un impegno sforzato, perché se uno ama veramente il Signore, l'amore, questo accade anche nei nostri amori umani, porta necessariamente ad amare anche le cose amate dall'amato. E quindi il prossimo, come si dice nell'atto di carità, non si ama perché è amabile in se stesso, perché i prossimi segnati dal peccato originale sotto il dominio delle passioni e della volontà umana, spesso volentieri, sono tutt'altro che amabili, sono abbastanza odiosi, diciamocelo pure, no? Però non si ama il prossimo per la sua amabilità intrinseca, ma si ama il prossimo per amore di Dio, perché Dio ha creato quell'anima, perché Dio ama quell'anima, perché Dio vuole bene a quell'anima. Per questo si amano sopranaturalmente anche le persone cattive e si prega per la loro conversione, non gli si augura il male, noi non possiamo fare così, perché se facciamo così non siamo né cristiani né mariani, con nessuno, neanche con chi ci insulta, ci infanga, ci calunnia, con nessuno. Allora, la Madonna vuole che i suoi devoti amino il prossimo con la maggiore perfezione possibile, cioè soccorrendoli nei loro bisogni. Tante volte Papa Francesco ci ha fatto tante lezioni anche abbondanti sulle opere di misericordia, corporale, spirituale. L'amore non sono chiacchiere, molte volte consiste nell'essere molto solleciti, molto attivi, percepibili. Quindi amare non è semplicemente non fare alcun mare al prossimo, questo certamente è amore, ma non è sufficiente. E non soccorre nei bisogni, ma prevenire anche la necessità del prossimo. Questa delicatezza, questa attenzione che poi nasce, no? Nasce quando c'è un amore di autentico. Poi, questi sono proprio dei segni della soprannaturalità dell'amore del prossimo, un amore distaccato e disinteressato. Questo è difficile, figlioli miei cari. Distaccato e disinteressato vuol dire che vuole il bene della persona, vuole anche bene alla persona e accoglie il bene che la persona vuole, ma senza creare vincoli, lacci, legami, attaccamenti, peggio ancora, manipolazioni, condizionamenti sulla libertà, niente. Quindi l'amore non lega le persone, non esige, non pretende, non esige, non pretendere, niente da nessuno. Quando uno ama, accoglie anche ogni gesto di amore che riceve dal prossimo, ma lo accoglie sempre con un grandissimo grazie, perché un'anima mariana, pensiamo anche sempre, adesso non voglio stasera fare il meggiugoriano sfegatato, no? al modo con cui la Madonna chiude i messaggi di meggiugorio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La Madonna che dice sempre grazie. È bello, è molto bello dire grazie ed è molto bello anche sentire la parola grazie. Quanti ne dovremmo dire? Ecco, io dico sempre che il il Cardinale Petrocchi e il Papa Francesco vanno d'accordo non soltanto, insomma, perché la stima del Papa l'ha nominato Cardinale, anche su tante cose che dicevano. Io ricordo quando ero seminarista, lui ci diceva sempre imparate a dire le tre parole importanti, grazie, scusa e ti voglio bene. Ecco, il Papa dice invece grazie e scusa e permesso. Ecco, quindi perché anche permesso è una parola importante, no? Da dire spesso e volentieri. C'è proprio questo stile, quindi uno stile mariano è lo stile pacifico, pregalmo, disteso, propositivo, veramente amante in questo senso. Ecco, quell'amore è bello, noi siamo contenti quando ci sentiamo amati da qualcuno, però senza che quell'amore ci crei lacci, ci crei pretese, hai visto i rapporti umani, anche delle cosiddette amicizie, e non mi ha telefonato, è una settimana che non mi telefona, stavo in difficoltà e non mi ha fatto mai un messaggio, queste sono cose veramente comprensibili. Quando si cambia dimensione, nel senso che si passa alla carità, questa parola della carità, ripeto, non è la carità del dare qualche Euro, cosa che bisogna fare ai nostri fratelli poveri e bisognosi, ma qui è un'altra cosa. Quindi la carità, dice San Paolo, tutto scusa, non mi ha telefonato, vabbè non fa niente, non c'è avuto tempo, ma non è che non fa niente, che come dice, si non fa niente, però mi ha legato il dito e la prima occasione te lo rinfaccio, non fa niente, non fa niente, d'accordo, capite? E' bello avere dei rapporti di questo genere, quindi noi impegnati sempre a prevenire i bisogni del prossimo, ad essere solleciti, solerti, a cercare di fare il possibile per far sentire le persone amate, accolte, importanti, tutto quello che vogliamo, ma senza mai pretendere nulla. E tanto meno quanto più abbiamo dato a una persona, capito? E non ti ricambia in niente, oh, bisognerebbe fare la festa delle feste, come faceva San Francesco d'Assisi. Ecco, io penso che pensando a queste cose, ecco, si provi nel cuore, insomma, una gioia mista a desiderio, cioè magari fossi capace di amare così, no? Ecco, però proviamoci, perché amare, ecco, oltre che santo, è bello vivere così. Ecco, il mettersi a disposizione del prossimo con, come diceva San Francesco, con spirito di minorità. E cercare sempre di essere per il nostro prossimo degli aiuti, dei tramiti belli anche sotto questo punto di vista, discreti, anche se solleciti, perché attraverso Dio nel prossimo posso incontrare il Signore. Mi si permette, insomma, di dire questa cosa che mi viene un pochino dall'esperienza pastorale, da tante mail che ricevo, da tante chiacchiere, da tanti colloqui che ho fatto con tante persone, confessioni ascoltate, cioè portare le persone a Dio e Dio alle persone è un compito bellissimo, ma anche questo dobbiamo imparare a svolgerlo, come dire, con eleganza, con spirito soprannaturale. Mi verrebbe da dire se si intende bene con classe, cioè non si porta a Dio andando a prendere di petto le persone, come dire, diventando una sorta di grilli parlanti, pedanti, imponendo le cose, obbligando le persone, come dire, parlando troppo, sempre in maniera esplicita di Dio, a volte anche in luogo, in momenti inopportuni, in maniera inopportuna, cioè la bellezza, la discrezione. Noi parliamo di Dio a tutti con la nostra vita, perché quando uno ama, quella è una predica continua e ininterrotta e tra l'altro molto gradevole, molto convincente. Ecco, parliamo invece esplicitamente del Signore, sempre con molta dolcezza e con molta umiltà, o quando qualcuno ce lo chiede, o quando vediamo che c'è un qualcuno che comunque ha fame e sete di Dio. Magari possiamo anche provare delicatamente, intelligentemente, sapientemente, astutamente a sollecitare qualche domanda, questo certamente sì, però purtroppo non è bello, non diamo una bella immagine, non soltanto di noi stessi, ma anche di Gesù e dello stesso cristianesimo, quando io certamente so che molte volte un'anima gli prende questa cosa per eccesso di zelo, perché è normale che se io incontro il Signore vorrei che tutti lo incontrassero, quindi vorrei spaccare il mondo, vorrei predicarla ai 420, vorrei prendere quel collo le persone e dirgli, ma dai per favore, ma cerca di capire, cioè non ti perdere questa cosa così bella, così grande, quindi questi sentimenti per carità sono belli, sono graditi dal Signore. Il problema è che nell'atto del tradurli in pratica, noi dobbiamo sempre ricordare che il cristianesimo si propone, non si impone, Dio non ha schiavi forzati, ha figli liberi, per cui anche le conversioni nascono da un processo che coinvolge, chiamiamolo così, il convertendo, nel senso che deve desiderare di ascoltare, deve aprire il cuore, deve anche a lui interessarsi un pochino, perché quando vediamo che quello che non è aria non bisogna far prediche, perché l'unico effetto di quella predica è appunto passare per pedanti, per fanatici a volte, per integralisti, tutte le solite cose che vengono dette a quei cristiani che a volte sono semplicemente un po' troppo fervorosi, ripeto, a fin di bene, quindi certamente il Signore guarda anche le nostre intenzioni del cuore, no? Ecco, però, ecco, portare chiunque sia all'incontro con Dio è cosa che si fa non soltanto con le parole, anche perché le nostre parole non convertono nessuno, neanche le mie, io so benissimo che se io non pregassi tanto e non cercassi, questo purtroppo poco, ma non perché vorrei che fosse poco, ma perché dobbiamo fare i conti con la nostra inadeguatezza, quindi regare tanto forse sì, e se non testimoniamo possibilmente tanto la nostra santità di vita, poco giova, le parole giovano molto molto poco, ecco, comunque la Madonna a chi è devoto ottiene il dono di una grandissima carità, quindi nel Nuovo Testamento si legge che se qualcuno è privo di sapienza la chiede a Dio, ecco, se qualcuno si sente privo di carità la chiede alla Madonna, che la riempirà quest'anima del suo stesso amore e della sua stessa disposizione. Ecco, concludiamo la conversazione di oggi con un testo, ecco, poi per la prossima volta spero di trovarne qualcun altro, insomma, perché anche qui è tratto dagli scritti di Maria Valtorta, potremmo dire la carità di Maria negli scritti di Maria Valtorta, prima puntata. è un episodio molto molto bello, si trova nel testo di padre Gabriele Maria Roschini, già citato parlando della speranza di Maria, e dice così, lo leggiamo e lo commentiamo insieme e poi ci congediamo. Mamma mia, sono venuto, sei contenta ora? Era uno dei momenti in cui, durante la vita pubblica, Gesù faceva qualche sorpresina e tornava a trovare a Nazareth sua madre. sei contenta ora? Tanto figlio mio, ma se è solo per la mia preghiera che lo hai fatto, io ti dico che non mi è e non ti è lecito seguire il sangue più che la missione. Dice, no mamma, sono venuto anche per altre cose, qui bisogna già fare la prima pausa. ecco, la Madonna desiderava tanto, nei momenti di lontananza, rivedere suo figlio, tantissimo. Nessuno venga a dire questo, non c'è niente di più normale, perché Gesù e Maria si amavano immensamente, anche Gesù avrebbe desiderato tantissimo stare sempre con la sua mamma e se, come dire, se fosse stato possibile lui assecondare un desiderio suo personale che fosse diverso dalla volontà del padre, quindi questo discorso ipotetico per assurdo, ha sicuramente, avrebbe detto, me ne vado a stare un altro bel po' con la Madonna, quindi sei sicuro, insomma, senza nessun dubbio. Quindi fu un grandissimo sacrificio per loro. Ecco però la carità di Maria, perché è vero che il suo figlio è Dio, ma è vero anche che il suo figlio è il figlio dell'uomo, il nostro Redentore, che è venuto sulla terra per compiere una missione al nostro beneficio. E quindi l'amore di Dio esige il sacrificio del figlio. Ed anche l'amore retto e corretto nei confronti del figlio, che pure è figlio di Dio, ma è anche figlio suo, esige il distacco. Questa è la carità del prossimo, no? Quanto è difficile per un genitore essere distaccato da un figlio. Eppure quanto è importante, no? Un figlio che si mette in testa di fare una cosa che non è quella che c'è in mente tua. Io ho conosciuto tante situazioni di famiglie che magari un figlio o una figlia gli veniva la vocazione e sono successi i fini mondi. Ma i fini mondi semplicemente per congenitore si era messi in testa che un figlio tutto poteva, doveva fare, meno che quello. Ma questo non va, perché il figlio non è figlio tuo. Il figlio è innanzitutto figlio di Dio. A te ti è stato affidato in custodia, il Signore ha avuto fiducia di te e te lo dona per un tempo perché tu lo possa educare, lo possa far crescere, lo possa far diventare innanzitutto un buon cristiano. E poi anche un buon essere umano, un buon cittadino dello Stato, sono tutte quante cose importanti, un buon lavoratore. Ecco, però poi quel figlio deve fare quello che Dio vuole e lo devi lasciare libero. Allora, proseguiamo la lettura. No mamma, sono venuto anche per altre cose, dice Gesù. Riprende Maria. Dunque è proprio vero figlio mio, io credevo, volevo credere che fossero voci di menzogne, che tu non fossi tanto odiato. Le lacrime sono nella voce e nell'occhio di Maria. Non piangere mamma, non mi dare questo dolore, ho bisogno del tuo sorriso. Sì figlio, sì, è vero, tu vedi tanti volti duri di nemici che hai bisogno di tanto amore e di sorriso. Ma qui, vedi, c'è chi ti ama per tutti. Ecco qui, ancora un altro exploit dell'amore di Maria. La Madonna in Gesù poteva vivere la doppia dimensione, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, anche no? Maria che si appoggia levemente al figlio, che la tiene abbracciata alle spalle, camminando lentamente verso casa, cerca di sorridere, per cancellare ogni pena dal cuore di Gesù. Figlio, ora che siamo soli, dimmi la verità tutta, perché ti hanno cacciato? Perché cercavo di portare l'uomo all'onestà, alla giustizia e alla vera religione. E chi ti accusa? Il popolo? No, madre, i faricei gli scrivi, meno qualche giusto fra essi. Ma che hai fatto per attirarti le loro accuse? Ho detto la verità, non sai che è il più grande sbaglio presso gli uomini. questo fa un po' ridere e fa un po' sorridere, insomma, perché penso che anche per un sacerdote in cura d'anime, insomma, quale io sono, fa parte del bagaglio di ogni normale sacerdote che cerchi di fare bene il suo lavoro in cura d'anime, dover fare l'esperienza di essere come dire, sobbarcato, insieme certamente alla stima di alcuni, la gratitudine anche di alcuni, eccetera, eccetera. Sicuro, insomma, c'è anche una montagna di fango, insomma, di odio proprio a volte sconcertante, stupefacente, ma è così. Ecco, ora Gesù era Gesù, noi esseri umani dobbiamo sempre chiederci, anche noi preti, dice sì, però se questa persona ce l'ha con me, io che ho fatto? Perché potrebbe darsi, insomma, che anche in buona fede abbiamo commesso qualche errore, o che nel fare il bene abbiamo ecceduto nello zè, o magari abbiamo offeso qualcuno, insomma, quindi in Gesù questi problemi non c'erano, in noi sì. Ecco, però dobbiamo mettere in conto comunque questa cosa, se ci si mette dalla parte del bene e della verità, non stupiamoci se arrivi qualche bomba, questo vale per i preti, ma vale anche per i cari fedeli, fratelli e sorelle laiche, insomma, no? Perché quando si è dalla parte del Vangelo, inevitabilmente si suscitano critiche, a volte aspre, a volte maldicenze, a volte calunnie, da parte semplicemente di chi, pur non sapendolo, ecco, non sta dalla parte del Vangelo, ma sta dalla parte del nemico, di Dio e del Vangelo, che sappiamo tutti chi è, e che quello chiaramente pompa e aizza. e poi Maria continua, e che hanno potuto dire per giustificare le loro accuse? E Gesù risponde, delle menzogne, quelle che sai e altre ancora. Dire alla tua mamma, dice Gesù, il tuo dolore mettilo tutto nel mio seno. Un seno di madre è abituato al dolore ed è felice di consumarlo pur di levarlo al cuore del figlio. Dimmi il tuo dolore, Gesù, mettiti qui come quando eri vicino e deponi tutta la tua amarezza. Io vorrei fare una piccola pausa, non dico di silenzio, ma almeno di riflessione, vedere questa tenerezza della Madonna e chiedere, ecco, certamente noi stiamo meditando sulla carità di Maria e quindi anche sul nostro compito di imitare la carità di Maria e quindi di essere solleciti nella natura di Dio e nella natura del prossimo. Ecco, però noi abbiamo anche bisogno, di sfogarci un po', di sfogare il nostro dolore, di sfogare la nostra sofferenza, di sfogare la nostra delusione. Ci sono delle giornate, insomma, io ho abbastanza esperienza, insomma, che veramente le bombe arrivano da tutte e tante le parti, uno avverte un pochino il peso. Allora, anche qui, noi che facciamo? Da chi ci andiamo a sfogare? Ci abbiamo mai pensato di andarsi a sfogare da Maria? Da Maria? Come si fa? è facilissimo, ci si prende un pochino di tempo, si fa un atto interiore dove ci si metterà la presenza e si comincia a parlare con la Madonna. Come ci parlava Gesù? Dice, Madonnina mia, mamma mia, regina mia, vita mia, amore mio, chiamiamola come più il nostro cuore ci ispira, no? Sto tanto provato, sto tanto angosciato, è successo questo, è successo questo, è successo questo, è successo questo. Possiamo consolare gli afflitti, è un'opera di misericordia spirituale. Allora, le consolazioni che ci danno le creature sono sempre piccole, limitate. A volte una creatura non è manco molto disponibile, è molto disposta, perché tu devi raccontare un pochetto delle cose, ma se ti raccontasse lei a sua volta le sue, ti accorgeresti che magari sei tu che devi consolare lei e non il contrario, no? E poi la consolazione umana è sempre limitata, certamente, a volte è molto molto gradevole, no? Noi dobbiamo offrirla a tutti, la consolazione. Ecco, viceversa, andarla a cercare dove? Eh, se uno la cerca nella Madonna, la consolazione la trova. E trova non solo la consolazione, ma anche l'ispirazione, perché a volte le cose che ci fanno soffrire, e per cui abbiamo bisogno di essere consolati, magari non soltanto appunto sono cose che ci fanno soffrire, magari sono anche cose che necessitano la nostra attenzione, magari c'è un problema grosso, quindi c'è una situazione angosciosa, all'interno della quale però sono io che devo prendere, cioè devo vedere come muovermi, devo fare discernimento, devo capire quello che Dio vuole, e chi me lo dice? E glielo chiede alla Madonna, e chi me lo dice? Ci parlo. Cioè noi dobbiamo assolutamente imparare questa dimensione, no? Proviamo un attimo a pensare anche adesso alla fine del mese di maggio, com'è la nostra devozione alla Madonna? Ma questo è anche un pochino lo stesso discorso com'è la nostra preghiera, com'è la nostra preghiera con Gesù. Cioè quando io sono un amico di una persona, c'è un rapporto d'amico, ci parlo. Noi sappiamo che la preghiera vocale è importantissima, quindi chi questo mese avesse fatto, conosco qualche anno e ho fatto queste cose, il proposito di dire più rosali, se ne dico uno ne dico due, se ne dico tre ne dico quattro, se ne dico quattro ne dico cinque, se ne dico già cinque ne dico sei, adesso poi non esageriamo. Ha fatto una cosa stupenda, ecco, ed è importantissimo. La preghiera vocale, ho detto anche tante volte, in tante catechesi di tutti i tipi, è sempre la piattaforma e la base imprescindibile della preghiera cristiana, qui guai a chi lascia il rosario. Ok, però se il mio rapporto con la Madonna è solo, per esempio, nel rosario, quindi io ci parlo soltanto per ripetere le Ave Maria, insomma, per carità, è già tantissimo, ma la Madonna non è la mia amica, la mia mamma, la mia sorella maggiore, la mia regina, il mio punto di riferimento, il mio modello ispiratore, non lo è. Quindi Gesù ci andava a cercare consolazione nel cuore della Madonna, Gesù in persona, capite? E c'è un passo degli scritti di Maria Valtorta dove dice che lui, che è Dio, traeva immenso giocamento, capito? Anche se non aveva bisogno del consiglio, perché poi la Madonna qualche cosa glielo diceva, e diceva che non aveva certamente bisogno del consiglio di nessuno, ma gongolavo. Ecco, oltre che nella consolazione che mi dava quel cuore stupendo come era il cuore di mia madre, anche nel sentire quello che diceva, che anche se io le sapevo già tutte queste cose qui, però la sua lingua piena di sapienza, piena di prudenza, piena di intelletto, nel dirmi insomma anche la sua, sulla situazione che glielo aspettavo, prendeva felice Gesù. Certo la Madonna non ci dirà la sua magari, tra i tanti sogni nel cassetto, quindi facendoci sentire la sua voce dicendoci Don Leonardo, Don Leonardo Maria fai così, non sarebbe troppo facile, no? Ecco, ci farà sentire la sua voce un po' come ce la fa sentire nostro Signore quando facciamo quindi quella voce, ecco, silenziosa ma eloquente che parla dentro di noi e a cui dobbiamo tutti quanti imparare a farci attenti. Però ce la fa sentire la consolazione e si sente la consolazione della Madonna, perché è una grande consolazione. È la consolatrice degli afflitti, ecco, c'è una bellissima messa, l'ho fatta recentemente proprio durante il mese di maggio, che è dedicata a Maria Vergine della consolazione, che cerca qualcosa di spettacolare, che mostra proprio questo ministero mariano, perché poi la Madonna c'è un cuore di madre, quindi la madre è la consolatrice per antonomasia. Ecco, facciamole fare questa cosa, approfittiamo, cioè, ecco, di questa cosa bella che lei ha, no? Quindi Gesù si siede su un pacchettino ai piedi di sua madre e racconta tutto di quei mesi di Giudea, senza rancore, ma senza vedi. Maria lo accarezza sui capelli con un eroico sorriso sulle labbra che combatte con l'uccichio del pianto che è sugli occhi azzurri. Beato chi l'ha vista alla nostra Divina Maria. Guarda questa scena, no? Gesù è appoggiata alla Madonna che lo accarezza sui capelli e guarda magari verso avanti, sorride, gli vengono le lacrime a cercare di trattenerle per non dare un dolore ulteriore a Gesù, no? Eh, questa è tanta roba, ragazzi, veramente, veramente uno spettacolo degno del cielo. Gesù dice anche la necessità di avvicinare le donne per erimerle e la sua pena di non poterlo fare per la malignità umana. Eh, figlioli miei cari, io sono un povero prete e assicuro, insomma, che questo problema è un problema reale. C'è un proverbio, c'è un antico adagio, no? Che dice omnia munda mundis, cioè tutte le cose sono monde, cioè sono pure perché è puro. Il problema è che chi te guarda tanto puro non è e quindi maligna. E quindi in poro prete, così come il nostro Signore Gesù Cristo, deve fare anche attenzione a salvare le apparenze, ma non perché bisogna fare l'ipocrita, ma per evitare di andare a suscitare cattivi pensieri che sicuramente saranno fatti. Ecco, quindi chiedo a chiunque ascolterà questa categoria, a chi la sta seguendo in diretta, ecco, una preghiera, un'intenzione particolare per i sacerdoti, per i confratelli, per i cari confratelli sacerdoti, per tutti, ecco, perché ricordino sempre queste cose. Gesù non si è dispensato dall'attenzione necessaria in forza della virtù cardinale della prudenza a come gestire certe cose, no? Quindi attenzione anche a tanti comportamenti. Io ricordo una volta ero giovane, in una parrocchia X che frequentavo, a un certo punto arriva una ragazzina, ci aveva avuto 15-16 anni, già allora vestita in maniera un pochino, chiamiamo, diciamo, procace, no? E si siede sulla ginocchia di un frate davanti a tutti. Passò una persona adulta e gli disse, ehi, alzate un po' da lì, e se non ricordo male quella persona adulta poi in camera a Caritatis disse al frate, oggi gliel'ho detto io, eh, ma trova il modo certamente senza mortificare sta parola ragazzina che sicuramente lo fa in buona fede, ma di dirgli che sarebbe meglio evitare, ecco, perché io gli ho detto di alzare, di alzarsi, perché ho le mie buone ragioni per dirglielo, capite? Forse aveva già sentito qualche chiacchiera, tra l'altro era tutto infondata perché questo era un santo ragazzo, però dobbiamo fare attenti anche a quello, attenzione a quello, non ci sopporta niente di quello che pensa la gente di noi, a noi ci interessa quello che pensa Dio di noi, d'accordo? Punto. Ecco, però dobbiamo fare attenzione a non scandalizzare, perché questo Gesù l'ha detto, e a non farci ghiacchierare dietro, poi ci ghiacchiereranno dietro comunque, però un conto è che ci ghiacchierano dietro, un conto è che io ho dato adito a farmi ghiacchierare dietro, capisci? Questo vale per i sacerdoti, ma vale anche mutatis, mutandis, diciamo i romani per tutti noi. Quindi, chiudiamo, Maria sente e poi dice, figlio, non mi devi negare quanto voglio. Madonna che si rivolge in questo modo a Gesù, non mi devi negare quanto voglio. Ecco, la figlia primogenita della divina volontà che dice così, perché lo può dire lei. D'ora in poi io verrò con te quando tutti allontani, in qualunque tempo e stagione, in qualunque luogo. Io ti difenderò dalla calunnia. La sola mia presenza farà cadere il fango e Maria d'Alfeo verrà con me, lo desidererà tanto. Questo ci vuole presso il santo e contro il demonio e il mondo, il cuore delle mamme. Bellissima questa cosa che Maria Santissima dice. Questo ci vuole presso il santo, contro il demonio e il mondo, il cuore delle mamme. La Madonna è stata una grande mamma, vera mamma per Gesù e Gesù era contentissimo di avere tale mamma. Tutti noi dobbiamo, se vogliamo, questo è un dono che il Signore ci ha fatto, ricordando che la Madonna è anzitutto madre, cercare consolazione, cercare conforto, cercare rifugio, cercare quiete, cercare riposo, cercare anche qualche carezza. È brutto, lo è per tutti noi, vivere brutte esperienze, sentire brutte cose. Abbiamo bisogno in certi momenti dove siamo soli con noi stessi. Io vorrei invitarvi ad avere, se posso, con tanta delicatezza, con tanto umiltà. Io ho conosciuto, figlioli miei cari, sacerdoti tanto, tanto, tanto provati, a volte certamente con dei limiti umani, perché un sacerdote non è il Padre Eterno, anche se lo deve rappresentare. Vi assicuro che è molto imbarazzante in tante circostanze comprendere l'assoluta inadeguatezza della nostra pochezza, dinanzi a quello che dovremmo essere o quello che dovremmo fare. Però io ho visto, credetemi, sacerdoti con le lacrime agli occhi, sofferenti per, come dire, per essere stati non compresi dalla propria comunità, messi all'indice della propria comunità, giudicati, disprezzati, infangati a volte. Allora, siccome ho avuto ovviamente nel mio repertorio qualche cosa, vi inviterei, se è possibile, oltre che anche a pregare, di avere questa, specialmente le anime femminili che sono vicine un pochino alla parrocchia, di avere un pochino questo cuore di mamma, perché vi dico che alcuni sacerdoti non ce la fanno, non lo reggono. È proprio brutto oggi sentire, anche attraverso i social, e poi il problema è che quanto più si va in alto e tanto peggio è, persone, insomma, è brutto. Cioè, ci sono momenti in cui si ha bisogno veramente di un cuore di mamma per reggere. Allora, se quel sacerdote, speriamo, ci pensa, andare a piangere un pochino sul cuore addolorato e immacolato di Maria, starà meglio, no? Ma se non la seconda quell'ispirazione non gli viene, può accadere nella disperazione anche. Può succedere, il sacerdote vado a fare qualche guaio se si sente in questo modo, può scoraggiarsi, può andare in crisi ministeriale, insomma, vi assicuro sono cose che possano succedere. Io capisco, insomma, cerco di non essere mai troppo tenero né con me stesso né nei confronti dei miei confratelli, perché ci siamo messi in questa condizione, quindi abbiamo una grossa responsabilità, abbiamo l'obbligo di essere guide, di essere buoni esempi, di tendere alla santità e quindi, per carità, ecco, però, ripeto, siamo tutti quanti fallibili e peccabili, ecco, il Papa, grazie a Dio, è infallibile quando parla ex cathedra, ecco, ma è impeccabile, sul pianeta Terra sono stati soltanto Gesù Cristo e la Madonna, ecco, e poi fallibili siamo tutti, ecco, tranne il Santo Padre, ma solo quando parla ex cathedra, insomma, ecco, quindi, perché per il resto è sempre onorabile e rispettabile, ecco, ma non infallibile, perché nel senso possiamo sbagliare o possiamo peccare, ecco, teniamo sempre presente la distinzione tra sbaglio e peccato. Il peccato è più grave, lo sbaglio è meno grave, perché il peccato è un atto cattivo della volontà, cioè, è una cosa che si fa occhi aperti, cioè, io so che sto sbagliando, non me ne importa niente, persevero, invece lo sbaglio, ecco, si può anche parafrasare con l'abbaglio e a chi di noi non è capitata la nostra esistenza terrena? Credevo di fare bene e ho fatto male. Ringraziamo il Signore se ci concede la grazia di potercene accorgere, di potercene riconoscere, io tante volte ho sempre detto, prego la Madonna in continuazione per questo qui, di darci sempre un cuore aperto, un cuore soprannaturalmente umile, il cuore soprannaturalmente umile è il cuore che si sta a mettere in discussione, è il cuore che non si arrocca, è il cuore che è disponibile, ascolta, si confronta, è aperto, perché certamente possiamo sbagliare, ma se uno è testardo, nessuno ti può dire, oh figlio mio, ti stai a sbagliare, una volta, due volte, pensaci un attimo, così come se uno è ostinato nel peccato, ostinazione nel peccato, sappiamo che è un peccato contro lo Spirito Santo, perché errare umanum e perseverare è diabolico, vale per tutti, la Madonna svolge questo ministero, la Madonna ha la capacità sia di consolarci che di correggerci se le consentiamo di parlare del nostro cuore. Quindi ricorriamo a lei e aiutiamoci anche in nome della carità di Maria gli uni con gli altri, la misericordia comporta questo anche, la compassione reciproca, vediamo sempre nel peccatore il più grande infelice della terra, vedremo forse la prossima volta, un passo bellissimo, non lo so se leggerlo perché quando lo leggo mi commuovo un pochino, come la Madonna esprime la sua misericordia anche nei confronti dei più grandi peccatori, perché il più grande peccatore è il più grande infelice del pianeta terra, perché sta male lui. Ancora più facile è esprimere la misericordia verso gli erranti, quindi verso coloro che sbagliano senza rendersene conto e per i quali bisogna raddoppiare le preghiere perché basta che arriva un pochino di luce da parte di nostro Signore che è più facile correggere lo sbaglio che convertirsi dal peccato. Con questa grande delicatezza l'abbiamo sempre gli uni nei confronti degli altri, noi dobbiamo avere questo punto d'onore nell'imparare una grandissima carità fraterna. Qui dalle nostre parti il Vescovo di questa dioce si ha proprio quest'anno invitato tutte quante le comunità ecclesiali a interrogarsi su questo, cioè nelle nostre parrocchie c'è aria di amore soprannaturale, c'è aria di famiglia, ci vogliamo bene o perché altrimenti, va bene, supponiamo che questo non lo viviamo, ci abbiamo voglia di costruirlo, siamo almeno d'accordo su questo qui, no? Cioè che i primi cristiani erano riconosciuti al grido guardate come si amano, cioè chi era lontano dalla fede e vedendo l'amore profondo, fraterno tra i figli di Dio diceva, divento cristiano pure io, d'accordo? Non perché sono perfetti, ma perché sono capaci di amarsi gli uni gli altri. Ecco, va bene, continueremo per chi desidera insomma queste prime conversazioni la prossima settimana, mi raccomando, un buon e santo fine di mese di maggio a tutti quanti, certamente poi non abbandoniamo la devozione alla Madonna, ma ci portiamo dietro tutte le ricchezze interiorizzate vissute in questo mese, ecco per continuare anche in questo la nostra vita cristiana in una conoscenza, un amore sempre più profondo alla nostra cara, sempre vergine, madre, come l'abbiamo contemplata più che altro questa sera, Maria. Santa notte a tutti, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, alla prossima fraterna condivisione.